Buongiorno a tutti, ben sintonizzati su Occhè Italia Parliamone, continuiamo le nostre puntate per mettere a confronto Italia e Stati Uniti d'America su un tema specifico, sempre in collaborazione con Asso Camera Estero, Yoro Italia Nav e Aitaly. Oggi il nostro ospite per Occhè Italia Parliamone per parlare di distribuzione e internazionalizzazione dei prodotti alimentari italiani nel mercato degli Stati Uniti, abbiamo Lorenzo Zurino, fondatore CEO di The One Company. Ben arrivato Zurino. Grazie, grazie mille Massimo e grazie per l'invito. Ecco, è con me, la vedete al mio fianco, abbiamo Letizia Airos, non c'è bisogno di presentarla, editor in shift di Aitaly Network. Ben arrivata Letizia. Salve a tutti. Bene, prima di iniziare cerchiamo un po' di raccontare ai nostri ascoltatori la storia di Lorenzo Zurino. Chi è Lorenzo Zurino? Lorenzo Zurino ha origini di uno dei posti più belli, secondo me, in Italia, nella nostra costiera sorrentino. È nato a Sorrento e all'età di 22 anni decide di trasferirsi negli Stati Uniti d'America. Dopo aver maturato una profonda esperienza nel settore della ristorazione italiana, nel 2010 decide di fare il passo molto importante, ovvero quello di fondare The One Company, che oggi è tra le prime società italiane specializzate nello sviluppo commerciale di impresa all'estero. Alcune delle migliori realtà dell'agroalimentare italiano, del settore food and beverage, sono state e sono tuttora aiutate da The One ad affermarsi sul difficile mercato statunitense. Tra le altre cose, Zurino ha anche fondato ed è presidente dell'Italian Export Forum, che è il primo forum dell'export in Italia, che svolge importantissime iniziative tanto in Italia quanto negli Stati Uniti. Penso che uno dei motivi di grande vanto per Lorenzo Zurino sia però l'aver riconosciuto un importantissimo riconoscimento. Bene, nel 2019, quindi l'anno scorso, la NIAF, una delle più prestigiose fondazioni che ricordiamo rappresenta gli oltre 20 milioni di cittadini italo-americani che vivono negli Stati Uniti, decide di riconoscere a Lorenzo Zurino il premio di miglior giovane imprenditore dell'anno. Ma la cosa ancora più importante è che è la prima volta per una personalità under 35 di nazionalità italiana. L'anno scorso Zurino, se non ricordo male, aveva 34 anni, quindi veramente una grande soddisfazione. Quindi un imprenditore possiamo definirlo eclettico perché ha interessi anche in tanti altri settori, tra i quali ce lo racconterà sicuramente durante la nostra chiacchierata anche il mondo dei sigari di qualità. Ma Lorenzo, cominciamo dalla tua principale azienda, The One Company. Bene, ti chiedo quando e come ti è venuta l'idea di dar vita a The One e con quale spirito soprattutto voi accompagnate le tante imprese clienti sul mercato statunitense. Beh, allora Massimo, anzitutto grazie e saluto Letizia che è una persona alla quale sono legato da profondo affetto e grazie di questa presentazione che devo dire insomma mi ha fatto arrossire anche perché io sono solito dire che mi occupo di export ma la mia è un'attività molto semplice, no? È un'attività che intanto viene dalla mia famiglia ma principalmente viene da noi italiani perché gli italiani sono un po' i mercanti del mondo, sono i veneziani, sono i genovesi, sono gli amalfitani, sono i Florio in Sicilia. Quindi il mondo del mercanteggio, il saper commerciare, qualità se possibile, è chiaramente un mondo intrinseco all'essere italiano. E dicevi bene, io all'età di 22 anni arrivo negli Stati Uniti con il sogno di occuparmi di food. La mia famiglia si occupa di distribuzione alimentare da quattro generazioni, io sono la quarta da 105 anni e sono cresciuto all'interno di un deposito tra l'olio d'oliva, la pasta, il pomodoro, lo zucchero e il sale e quindi in sostanza avevo dentro questa se vogliamo anche conoscenza dei prodotti italiani legati al food. Bene, arrivo negli Stati Uniti, oramai 13 anni fa, e inizio a capire quali erano le leve commerciali, inizio ad approfondirle, parto dalla ristorazione, dicevi bene, incontro una persona che poi è diventata diciamo un pilastro della mia vita, che mi avvia al mondo della distribuzione alimentare all'interno della ristorazione. La faccio breve, vendo il primo pallet di greco di tufo, che è un vino che viene prodotto proprio a tufo, in regione Campania, e un pallet era 740 bottiglie, sicché mi rendo conto che dalla vendita di un pallet ero riuscito a marginare una... Volevo dirti questo, dillo il nome di questa persona. altri due, ed ha una società di catering che forse è la più conosciuta sicuramente a Manhattan, ma lo stesso Gattopardo è uno dei ristoranti più famosi di Manhattan, e mi limito allo stato di New York. A mio avviso è uno dei ristoranti dove si mangia il miglior cibo italiano d'America. Ebbene, insomma, dicevo, vendo questa primo pallet di greco di tufo, avevo ventitré anni, quindi a distanza di qualche mese dal mio arrivo, e da quel giorno sostanza non ho più smesso, e oggi movimentiamo all'incirca novecento contenitori, che per intenderci vogliono dire novecento autotreni, che partono dall'Italia verso gli Stati Uniti e il Canada. Siamo tra le società leader in Italia nella movimentazione di prodotto italiano negli Stati Uniti, e abbiamo ampliato, insomma, il nostro know-how anche al Canada, all'Australia, e da circa quattro settimane siamo sbarcati in Israele, diventando partner nazionali della più grande società di distribuzione dello Stato ebraico. Quindi la mia attività si è ampliata e si è perfezionata nella distribuzione, chiaramente, alimentare. Questo è il core business dell'Adwan. Ovviamente è un'azienda che vive della capacità e dei talenti della mia squadra. Io sono solito dire, lo ripeto sempre quando mi capita di essere intervistato, che io personalmente non ritengo di avere grossi talenti se non quello di confrontarmi ed avere una squadra di persone molto più talentuose di me. E dal momento che, insomma, non sono neanche l'ultimo degli arrivati, avendo persone più talentuose di me, la squadra deve andare per forza bene. Un lavoro di squadra è la cosa più importante ed è per questo che tu hai fondato l'Italian Export Forum, il forum italiano dell'export. Com'è nata questa idea? Da quando l'hai fondato hai organizzato diverse iniziative, una anche qui negli Stati Uniti, proprio praticamente un anno fa, poco prima di questo Covid. Ci racconti, ci dici di che si tratta? Sì, tra l'altro è un'attività che ti ha visto coinvolta Letizia in prima linea. Certamente, allora ero in un treno che andava da Bologna a Milano con un gruppo di amici e anche clienti e analizzavamo che in quasi tutto il mondo, in quasi tutti gli Stati che fanno parte di questa bellissima terra, c'è un forum, è un think tank che analizza le leve che guardano al commercio di quello Stato con i paesi esteri. Questo luogo, questo spazio, quindi un po' la mela di Newton che ti casca in testa nel momento giusto, ero con un po' di imprenditori anche molto famosi che seguo nella mia attività di commercio estero e quindi diamo vita a questo luogo d'incontro. Il primo evento, i primi stati generali dell'export li teniamo a Sorrento, proprio l'anno scorso, e hanno un successo enorme perché riusciamo a portare... Intanto era la novità, devo dire che ha avuto terreno fertile anche dal punto di vista istituzionale, perché è un po' il polo dell'export italiano, quindi Cassa Depositi e Prestiti, Sace e Simest, con i quali poi abbiamo legato nel tempo, il Ministero degli Affari Esteri, quello dello sviluppo economico, e ci ha chiaramente dato l'opportunità di raccontare quello che facevamo anche all'interno di questo think tank. Abbiamo raccolto 122 miliardi di fatturato all'interno di una sala, circa 500 proprietari d'azienda e amministratori delegati d'azienda, che in quel giorno avevano l'opportunità di fare del sano e concreto networking, e quindi dai primi stati generali dell'export poi abbiamo avuto un secondo evento, e lo abbiamo fatto con la John Cabot University a Milano. Dopo Milano abbiamo fatto un terzo evento a New York, dove grazie ai buoni uffici della dottoressa Ayros, ma anche ai tanti che ci hanno dato una mano, vedi la regione Sicilia, il presidente Musumeci, siamo riusciti a coinvolgere un bel e nutrito gruppo di stakeholders americani e soprattutto di grandi businessmen italo-americani, che hanno raccontato la loro esperienza di successo negli States, e siamo arrivati in quest'anno Ribilis, legato al Covid, da organizzare prima dello shutdown, anzi prima del lockdown italiano, il 10 di ottobre, la seconda edizione degli stati generali dell'export, questa volta con la Fiera del Levante, con il presidente Ambrosi, che è il nostro partner, e con il ministro Luigi Di Maio, quindi con il ministro agli affari esteri. Abbiamo avuto un parterre, del quale poi una bellissima rassegna stampa ci ha, come dire, regalato grande visibilità e grande attenzione, ma soprattutto siamo riusciti a coprire quello che era un, in America lo chiamerebbero un hole in the market, quindi un buco nel mercato, diciamo, delle possibilità che vengono date in Italia, che è quello legato proprio al commercio con l'estero. Ci siamo un poco allontanati, e termino questo lungo comizio, dalla piattaforma internazionalizzazione, perché è una parola talmente tanto abusata che ha assunto quasi una valenza metafisica, e ci siamo, e siamo atterrati, diciamo, su il tema più concreto e che più piace agli imprenditori che è invece quello del commercio con l'estero. Quindi, come movimentare questa meravigliosa accendino fatta in Italia, dall'Italia, presso un paese focus. Ed è un po' questa la nostra missione. Lorenzo, una cosa molto importante, tu parlavi, ecco, di questo bellissimo, ovviamente, forum, che come accennava anche prima Letizia, possiamo dire che oramai è stato consacrato come momento molto atteso per tutti gli imprenditori che hanno interesse ad internazionalizzare, a fare export. Ti chiedo, quindi, in parte, diciamo che vi state anche sostituendo a quella che è l'attività principale proprio della nostra agenzia governativa, dell'Ice, l'Istituto Commercio Estero, ma ti chiedo, proprio in virtù della tua esperienza in questo settore, quali sono i principali... No, però ci tengo... Sì, dimmi, dimmi, Lorenzo. Volevi chiarire che non sei in contraposizione con l'Ice? No, ci tengo a chiarire che noi non andiamo... L'ho capito. ...nella maniera più assoluta. Ma d'altronde, avermi detto... Anzi, conosco il Presidente, gode, godo della sua stima e lui gode della mia e lavoriamo insieme, non a caso, all'interno della Fiera di Levante abbiamo fatto un parterre dove ci siamo... ci abbiamo lavorato insieme in una alla sua struttura, quindi... Non mi permettere mai di sostituire qualcosa che è un'attività di natura governativa. Non fraintendermi, d'altronde, l'aver detto che comunque Cassa Depositi e Prestiti, sa, c'è sì, ma che comunque hanno partecipato, questo significa che comunque sia c'è una condivisione anche dell'idea progetto. Ma la domanda è questa. Forte delle tue esperienze, quali sono le problematiche principali che tu riscontri che hanno le nostre imprese italiane quando vogliono fare export e soprattutto le imprese del settore food and beverage che sappiamo che spesso sono anche limitate da delle normative molto restrittive quando si va all'estero? Allora, intanto, ti ringrazio della domanda perché mi dà l'opportunità di chiarire non solo l'aspetto che ho chiarito prima e cioè la totale collaborazione con l'ICE e con il polo dell'export e chiaramente con l'attuale ministro per il commercio estero che è il ministro degli esteri l'onorevole Luigi Di Mano. Dato questo come premessa di forma e sostanza, tengo a chiarire anche questo aspetto. Molte volte... Allora, intanto il nanismo aziendale. eh... Fino... Era bene Massimo. Il nostro era un paese eh che eh diceva, usava un claim che poi ha capito essere superato che era il piccolo e bello. Ebbene, il piccolo è piccolo e non è bello. o se noi intendiamo bello ci dobbiamo fermare soltanto all'estetica del prodotto ma non è funzionale al mercato estero perché eh per sua natura un'azienda che produce pochissime unità pochissimi items pochissimi SKU non ha una capacità diciamo di lavorazione per i mercati che vuole aggredire è del tutto evidente che è un'azienda che fa difficoltà a oltrepassare i confini nazionali o quantomeno non viene guardata con grande interesse da un potenziale buyers estero quindi primo punto il nanismo che si può risolvere attraverso per esempio delle ottime iniziative di consociativismo delle ottime iniziative di accordi temporanei di impresa che possono dar luogo a delle attività di mass market che ti consentono di poter arrivare a atterrare su mercati che prima da solo facevi fatica a coprire. Analizzato questo primo punto ce n'è un altro che è il tema delle competenze sulle quali in questo momento il forum italiano dell'export sta facendo una sua battaglia e cioè se io dico una cosa sulla quale vi invito a riflettere tutti e lo invito a fare anche alle persone che ci ascoltano se è vero come è vero che il tema export quindi il commercio con l'estero di prodotti italiani vale un terzo del nostro prodotto interno lordo almeno lo valeva fino al 2019 ma lo varrà certamente di qui a breve e quindi 500 miliardi di euro è un tema strategico e su questo siamo d'accordo tutti cioè sappiamo tutti che è un tema strategico ora anche nelle migliori e nelle peggiori famiglie quando si tratta di discutere di un prodotto strategico lo si fa o andando ad attingere le migliori competenze o cercando di studiare per avere in modo per dare luogo a quelle competenze che ti servono ad affrontare quel tema questo tema a mio avviso è un tema strategico lo è per tutti lo abbiamo dato per certo e va trattato con altrettanta competenza quindi la prima cosa da fare è arrivare all'interno delle aziende e cercare di far capire loro che la figura dell'export manager non può essere più il ragazzo neolaureato addirittura neodiplomato che spiaccica un po' di inglese e che si manda in giro con una borsetta sperando che porti qualcosa a casa ma va fatto in maniera strategica va formato quella persona gli va insegnato che cosa vuol dire avere a che fare con le dogane estere gli va insegnato che cosa vuol dire produrre un price point che sia come dire in linea con il prodotto e soprattutto gli vanno dati quei mezzi e quelle opportunità che gli consentono di conoscere quel mercato che va ad attaccare non dico a menadito ma quasi proprio perché quel tema è diventato strategico per il sistema paese e certamente per l'azienda che rappresenta entriamo nella come dire nella vita reale in quella tua e in quella di tantissimi potrei dire colleghi tuoi che questi mesi sono praticamente rimasti bloccati dal covid che cos'è successo diciamo da marzo in poi ce lo puoi un po' raccontare intanto io dico non uso diciamo termini bellici perché per mia natura da buon democristiano tengo a sottolineare quanto sia importante ritornare alla pace ed evitare la guerra quindi non dirò che abbiamo vissuto una terza guerra mondiale ma ci siamo andati molto uccidio abbiamo chiaramente capito che cosa significa ecco abbiamo capito che cosa significa perdere fatturato a due cifre da una notte all'altra abbiamo capito quanto è importante per il nostro sistema paese per le tante aziende che lo rappresentano per il suo tessuto economico quanto sono importanti i rapporti bilaterali con i nostri vicini ma se vogliamo anche con i nostri lontani quindi con i paesi e con i paesi nei quali andiamo a vendere i nostri prodotti infine dico ai miei l'ho detto abbiamo capito quanto è importante in questo momento avere una squadra che ti sappia supportare bene io sono solito in questo momento dare diciamo della mia lezione di vita perché quella che è stata per me è stata una lezione di vita la mia lezione la trasferisco e la condivido con gli altri ebbene io che cosa ho fatto quando abbiamo vissuto il primo lockdown quindi la totale chiusura di tutti gli uffici di tutte le attività di tutte le produzioni molte volte tranne quelle alimentari la prima cosa che ho fatto è cercare di analizzare le geografie commerciali la mia azienda per esempio era particolarmente esposta verso 11 stati degli stati uniti d'america sottolineo 11 stati perché quando tu Letizia mi dicevi molti miei colleghi beh io sono solito diciamo raffrontarmi con i colleghi che non dicono che fanno internazionalizzazione ma che la fanno quindi in sostanza commercializzano ecco di questi colleghi io ne ho visti pochi diciamo di questi pochi tra questi pochi io ho riscontrato gli stessi problemi per esempio personalmente io ero troppo esposto verso gli states verso 11 stati degli stati uniti perché chiunque dice che vende in america è un perfetto bugiardo perché se io vendessi in tutti gli stati degli stati uniti d'america sarei più che billionaires quindi io faccio fatica a star dietro a 11 stati fare delle cose che ho fatto e analizzare altre opportunità non a caso io ho aperto Israele voi sapete che io sono in società con un fondo di una persona a me molto amica che è il signor Kaufman che è un noto ebreo di Manhattan che mi ha dato l'onore della sua amicizia e l'onore della sua capacità di business ed è per questo che io ho incominciato a guardare ho seguito un po' con le geografie del covid laddove incominciava a come dire stemperarsi io cercavo di attaccare quel mercato ed ecco che è arrivata l'Australia ecco che è arrivato il gas Germania, Austria e Svizzera soprattutto è arrivato Israele che non vuol dire che non ha vissuto il covid anzi è stato tra quei stati più severi ma ho incominciato a guardare oltre gli Stati Uniti tieni presente Letizia a te non ho bisogno di dirlo ma lo dico al dottor Massimo a Massimo anzi un pezzo del mio cuore è totalmente lì e non sarà mai lontano da lì però è chiaro che ho dovuto guardare al business in maniera un po' più prospettica e questo mi è servito da lezione che condivido che è stata quella di aprirmi anche con curiosità e se possibile con competenza a stati che prima non avevo neanche preso in considerazione uno tra tutti quello di Israele quello che hai detto è una cosa giustissima che dimostra che comunque sei un grande imprenditore perché il vero imprenditore è quello che cerca anche di diversificare anche per ridurre il rischio di eventuali crisi e d'altronde il tuo operato va in quella direzione l'export lo hai detto tu ma sicuramente lo sappiamo un pochino tutti noi osservatori dell'economia italiana e non solo potrà realmente essere lo strumento per rilanciare l'economia italiana sappiamo che gli Stati Uniti d'America negli ultimi anni hanno avuto una politica molto protezionistica e ti chiedo in che modo eventualmente il passaggio da Trump a Biden può fare qualcosa di positivo verso il nostro export verso gli Stati Uniti d'America cosa ci possiamo aspettare? Bene anche in questo sarò straight to the point chiaramente c'è stata un'attività protezionistica dell'ex non ancora ex ma diciamo di ciò che è stata l'attività della Casa Bianca gestita da Trump che ha fatto pagare lo scotto ad alcuni nostri centri di ricavo ne cito uno che è quello più conosciuto che è quello del parmigiano reggiano è altrettanto vero e lo dico per onestà intellettuale lo dico per onestà intellettuale è altrettanto vero che però molta della voce alta fatta da Trump è rimasta una voce alta è stata come per dire una prova muscolare ma che non si è mai tramutata in effetto di rimbalzo all'interno diciamo del proprio tessuto economico in altre parole per dirla più semplice millantava o minacciava l'aumento di dazzi su tanti prodotti ma alla fine diciamo quello che interessava a lui era un'attività di diciamo negoziazione commerciale one to one lui ha sempre detto io non parlo con l'Europa probabilmente politicamente voleva spaccare l'Europa politicamente e quindi giocava al rialzo e alla minaccia per tentare di negoziare vuoi una volta con la Francia vuoi con l'Italia vuoi con la Germania è del tutto evidente che non ha ripagato a mio avviso questa forma di politica estera e mi auguro che con l'avvento di Biden ma mi pare che già lui guardi al mercato globali con come dire con più prospettiva senza più preconcetti ecco guardi con come dire è più esterofilo mi passi il termine certamente di Trump e questo chiaramente per chi si occupa di commercio con l'estero fa ben sperare devo dire anche e e su questo diciamo sono pronto anche espormi personalmente che ho avuto il piacere di guardare con interesse ho anche un amico che da poco un amico è un parolone ma una persona che conosco e che stimo e che ho frequentato che farà parte della squadra di Biden e devo dire che ha messo su una squadra di grandissima eccellenza ma competenza sono persone particolarmente preparate nei settori che andranno a ricoprire certamente Lorenzo torniamo alle nostre aziende che tu conosci conosci molto bene e soprattutto quelle del sud e secondo te quanta capacità di resilienza e di resistere hanno loro realmente parlo soprattutto delle piccole e medie imprese e quali sono i loro punti di forza e quali sono le loro debolezze in questo momento non vorrei sembrare diciamo ripetitivo intanto la capacità di resilienza è intrinseca all'italiano medio all'italiano in generale noi siamo un popolo che ha visto diciamo il passaggio di mille popolazioni e si è sempre ricostruita e si è sempre lamentata perché siamo anche questo ma quando è stato il momento di rimboccarci le mani che l'abbiamo sempre fatto io credo fortemente che l'italiano sia un una persona geniale che sa come uscirsene dal guado anzi nei momenti diciamo di grande difficoltà riesce a dimostrare con molta più vehemenza i suoi demon quelli che i greci chiamavano i suoi talenti quindi dato questo per certo devo anche dire che anche dal sud è partita una grande forza di rivincita di rinascita io sono tra quelli che pensa che noi avremo certamente un rimbalzo economico che sarà chiaramente post vaccino ma certamente noi avremo un rimbalzo di natura caratteriale noi una volta oltrepassato questo guado chi riuscirà a oltrepassare questo guado avrà molta più contezza e certezza dei suoi talenti se ne sarà ne uscirà molto molto più consapevole perché se riuscirà a superare questa situazione drammatica e voglio dire non saranno tutte ecco da questo bisogna essere in questo bisogna essere molto onesti riuscirà certamente avrà certamente una prateria di fronte perché alla fine che cosa ha fatto questo questo covid dice bene un uno scrittore a me molto caro che è buttafuoco dice che cos'è stato il covid è stato un grande pettine che è passato sulla testa di tutti e ha chiaramente portato al pettine scusate il gioco di parole tutti i nodi che facevano parte del nostro tessuto politico e economico ma come per noi l'hanno fatto per tutti una volta passato ci metterà tutti nella stessa condizione certamente certamente non sono così stupido chi avrà più forza e più spalle grosse e per questo intendo più danari avrà certamente più capacità di riconquistare il suo mercato ma non vorrà dire che chi ne avrà meno non avrà la stessa potenzialità sarà soprattutto la fame e dove intendo dove intendo per fame la luce la rabbia il fuoco che ha negli occhi sarà soprattutto quella magia a ridare ai nostri imprenditori la forza e la vehemenza di riprendersi quei mercati fin anche quello interno che chiaramente in questo periodo si è sentito venire meno ecco Lorenzo potremmo continuare a parlare con te di questa cosa a lungo perché poi chiaramente ci sono una serie di risvolti anche molto importanti però c'è una cosa a cui io tengo e credo anche il mio collega tiene proprio parlando delle nostre piccole aziende ci parli un po' di questa tua passione per i sigari per la Sicilia io sono non innamorato io sono follemente pazzo per quella terra che ha visto chiaramente il passaggio di mille più popoli di mille più caratteristiche se vogliamo di mille più tradizioni io sono un piccolissimo collezionista d'arte la prendo lunga ma atterro immediatamente sulla domanda essendo un piccolissimo collezionista d'arte e se vogliamo un curioso della storiografia e della storia dei paesi io sono chiaramente un innamorato dei Florio prima ancora che i Florio venissero romanzati brillantemente negli ultimi anni e da appassionato dei Florio ho incominciato a frequentare quella zona della Sicilia che va da Palermo a Marsala che ha visto chiaramente la nascita se vogliamo se mi permettete del primo commercio di prodotti italiani nel mondo mi riferisco al tonno olio d'oliva che è nato grazie ai Florio e rivedo un po' su questo vi prego di prendermi con le green con grinze e di farmi passare ho visto nell'attività dei Florio la mia piccolissima attività magari fossi bravo come loro quindi ho incominciato a frequentare la Sicilia ma allo stesso tempo io amico dell'amico comune Gianfranco Sorrentino fumo il sigaro al Canergy Hall e al Davidoff della Sesta quindi 57 e Sesta e di fronte al Canergy Hall da che avevo vent'anni quindi per quindici anni ho fumato il sigaro che era il momento diciamo a fine giornata dove mi facevo una carezza vivendo chiaramente da solo arrivo in Sicilia qualche anno fa e soprattutto l'anno scorso e scopro che c'è un pazzo squinternato che ha incominciato a produrre tabacco in un paese che si chiama Cerda poi a Bagheria dopo 150 anni di nuovo in Sicilia dico se sono qui siccome sono un fatalista se sono qui proprio in questa terra e perché sono innamorato di questa terra e fumo il sigaro tutto questo deve avere un senso chiedo di incontrare questa persona a un amico siciliano e quel giorno prendemmo un caffè in una città che poi mi è rimasta nel cuore che si chiama Marsala da quel caffè ne è nata un'azienda e oggi chiaramente dopo il riconoscimento dello Stato attraverso l'Agenzia dei Monopoli delle Dogane che vi assicuro è una materia complicatissima siamo i primi produttori di tabacco e di sigaro in Italia nel mondo e devo dire che è il primo paese a darmi soddisfazioni commerciali per l'ennesima volta gli Stati Uniti è stata l'America ecco indubbiamente il tuo racconto Lorenzo è un racconto che affascina e anche questo tuo attaccamento al sud d'altronde ecco le tue origini della costiera sorrentina territorio che io amo particolarmente adoro fare il bagno ogni volta che posso a Massalubrense quindi vedendo gli Galli e l'isola di Capri esattamente di fronte quindi so benissimo in quale splendido luogo sei stato così come altrettanto bellissima alla Sicilia di cui capisco per quale motivo tu ti sei innamorato parlavi prima della crisi indubbiamente questa crisi la crisi economica legata alla pandemia Covid-19 è la più grave crisi che abbiamo vissuto dal dopoguerra d'oggi e forse però come in tutte le crisi subito dopo ci si potrà risollevare e anche il Mezzogiorno d'Italia in particolare nonostante sia stato l'unica razione in cui il divario tra nord e sud è aumentato sempre di più anziché ridursi potrà forse trovare e recuperare tutto il terreno perduto l'export è importante e sarà ancora più importante per le nostre PMI lo diceva anche Letizia prima abbiamo bisogno di creare una cultura di imprenditori che possano intercettare le opportunità date dall'export all'internazionalizzazione dicevi benissimo tu io costantemente intervisto i nostri presidenti delle camere di commercio italiane nel mondo uno dei problemi io spesso concludo le loro interviste facendo una domanda se esistono delle regole d'oro che un imprenditore che intenda investire nel paese terzo debba conoscere per evitare delle amare sorprese questo perché perché spesso erroneamente il nostro imprenditore non ha una visione d'insieme rischia di scontrarsi anche con una richiesta con una domanda che da solo lo dicevi anche tu prima non può soddisfare se non messo insieme con aggruppamenti temporanei di imprese o altre forme di aggregazione che possono essere le reti di imprese bene noi speriamo veramente che questo tuo esempio possa essere da traino per tantissimi nostri imprenditori che vogliano continuare a portare l'eccellenza del made in Italy in giro per il mondo perché giustamente l'hai detto anche tu oggi parliamo di Stati Uniti d'America ma bisogna avere una visione globale anche in questo tipo di servizio ti seguiremo con attenzione Lorenzo perché hai dato uno spaccato di un dinamismo tutto italiano di una voglia di fare e soprattutto Letizia penso che la passione che abbia dimostrato Lorenzo nel raccontare se stesso ma soprattutto nel raccontare anche grandi imprenditori parlava della famiglia Florio che si sono fatti riconoscere il mondo sia veramente uno dei valori aggiunti del made in Italy che ci fa grande e ci fa conoscere dovunque diciamo che questa è un po' la chiave per presentare il nostro made in Italy nel mondo le storie le storie le vere storie delle famiglie delle persone la vita reale insomma quello che si affronta e poi il territorio intorno è il nostro punto di forza benissimo allora permettetemi di ringraziare Lorenzo Zurino per essere stato con noi sicuramente avremo occasione in altre puntate di tornare a collegarci con te per farci raccontare degli sviluppi e soprattutto avremo piacere di sentire dalla tua voce che l'emergenza è finita perché questo è quello che ci aspettiamo veramente tutti con forza grazie Lorenzo grazie grazie Letizia grazie Massimo grazie Letizia e spero di rivedervi presto grazie per questa generosità e per il tempo che mi avete dedicato è stato veramente un piacere arrivederci a tutti e grazie